la mia piccolina è sveglia no no non provare ad andare via mia piccola umana ti ho trovata priva di sensi all'interno di questa caverna circa due giorni fa in realtà non saprei proprio dire c'è messo un po svegliarti chi sono io io sono una dragonessa e anzi dovresti riconoscermi ricordi quando eri piccola avevi preso un uovo con te un uovo verde con delle ricche gialle vivevi ancora con i tuoi genitori esatto ero io io ero la piccina dentro quell'uovo non sto scherzando non potrei mai mentirti sono stata trasformata in una forma similumanoide da tua nonna ci teneva che avessi qualcuno per te sei una ragazza così dolce delicata tua nonna ha fatto bene a prendersi cura di te la sua piccola nipote preferita voleva che tu avessi una compagna beh sì tua nonna era una strega ma non pensiamoci sappi solo che era davvero una donna squisita e non lo dico solo perché sono un drago si è sempre preoccupata di te ma anche di me e voleva che tu non rimanessi sola e sai penso proprio che sia tu il mio desiderio il mio tesoro oh ma non è strano non è affatto strano in realtà sono stata io a cercarti la prima volta però eri sempre impegnata per cui a volte mi mettevo svolazzare quella anche solo per osservarti volevo tanto parlarti ma non ne avevo il coraggio per cui ti ho solo osservato e nel mentre ho accumulato tanti tesori ma il tesoro più grande sei e sarai sempre tutto mia 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 tutta mia da coccolare ma adesso che dici se ti riposi un po è mio tesoro sì forse il motivo per cui hai dormito per un po e per la pozione che ti ho dato doveva essere un semplice ansiolitico ma mi sa che ha avuto degli effetti collaterali ma non preoccuparti dovrebbe sparire tra un po devi solo mangiare e bere ok e riposarti oh non preoccuparti ti sveglierò io sveglia sveglia tesoro tada ho preparato un po di cibo per te spero che tu abbia fame in realtà perché ci ho messo un po per trovare questo bisonte e so che ne avrai bisogno non posso certo rischiare che tu svenga per la fame non credi dai su sediti pure sulle mie cosce no lo sto ancora cucinando però puoi mangiare questi biscotti sai ho un'amica centauro e mi ha aiutato a farli ti piacciono oh lo sapevo adoro che cos'hai in viso stai stai arrossendo oh capisco arrossisci quando ti do un bacino e quando ti chiamo tesoro oh ma guardati arrossisci per un bacetto se continui così non potrà resistere beh com'era hai mai provato cosa sia l'amore ho solo cercato di fartelo sentire con tutta me stessa dal resto finalmente sei qui con me mio amore mio prezioso amore vuoi vorresti cosa? ah pranzare certo non ho nessun problema adesso te lo porto subito io non mangerò sono un essere di sangue freddo ho solo bisogno di mangiare una volta e poi boom pienotta te lo porto subito a patto però che ci coccoliamo dopo ok? promesso? ah ah va bene è un'ottima cosa che si sia fatta baciare senza protestare ma non lo so sembra intimorita quando la tocco con la mia pelle che insomma traspare oh vorrei provare a baciarla ma non lo so vorrei tanto farle capire che per me c'è solo lei e che io voglio essere sua mi sono innamorata di lei dal primo istante mi ci sono voluti quasi cinque anni per fare la prima mossa e in realtà stavo per avere a che fare con una fenice e con una chizzone se non fosse stato per quella di Cantropa credo proprio che avrei avuto in mano due cadaveri ma almeno ho fatto intendere che lei sarebbe stata solo mia meno male che poi si sono innamorati di due sue anniche e poi non prendiamoci in giro l'avrebbero trattata male l'avrebbero ferita oh io so come trattarla bene invece e come viziarla al dovere oh perché rido? beh pensavo un modo per renderti più sicura pensavo che il modo migliore fosse partire dalle basi non credi? cosa intendo? se vuoi sentirti più sicura dovresti provare a toccarmi no? iniziamo pure con questi che problema c'è tesoro? ovviamente ti terrò per mano nessun problema sarei una brutta dragonessa se non ci provassi mi prenderò io cura di te tesoro adoro quando mi mostri quel sorriso voglio tanto renderti felice del resto un tesoro felice è anche un ottimo tesoro ora mi permetti di farti un massaggio alle spalle mi sembri un po' tesa ma certo sarò il tuo letto personale il tuo cuscino preferito il tuo cuscino preferito anche se sono un po' piatta ma immagino che la cosa ti vada bene no? ho aspettato così tanto per solo questo momento per stare insieme a te questo odore? è odore di pino ti piace? io so che ti piace infatti ero sempre io a lasciarti la boccetta davanti alla porta dal resto tu sei il mio vero tesoro e guarda che sono per davvero una sorta di drago puoi ben vedere che tutti questi tesori non sono a caso li ho raccolti tutti per per avverare ogni tuo sogno ogni tuo desiderio sempre e comunque perché sei tu il mio tesoro più grande sempre beh ti è piaciuto il massaggio? grazie è davvero bellissimo sentirmelo dire da te oh giusto il pranzo dovrebbe essersi riscaldato io di solito mangio beh crudo o cose fredde ma sapevo che per te sarebbe servito qualcos'altro sì reggiti forte ti ci porto io tranquilla posso volare tranquillamente eh vola all'ombra di un destino io ti sarò vicino io ti amo tanto ti amo davvero tanto siamo arrivati scusa ci ho voluto un po' però almeno adesso ti potrei godere un bel pranzetto posso starti vicino? posso starti vicina? no no preferisco guardarti mangiare sei così perfetta sai non ho potuto fare a meno di notare che insomma non hai detto le due paroline magiche ti amo no? io ti amo tanto e speravo che insomma io so che mi ricambi mi ricambi nel cuore nella mente nello spirito cioè siamo fatti per stare insieme ok sì tua nonna ha reso me indispensabile per te nel senso che io io non posso vivere senza di te ma in effetti la cosa non deve essere magicamente accurata anche per te però gradirei tanto se mi dicessi che mi ami oh certo aspetto che finisci di pranzare allora ti è piaciuto il pranzo? ah hai sonno? ah non non me l'aspettavo hai dormito un po' oddio non è che per caso hai della febbre un'influenza oh no stai male lascia che con no? sei solo stanca? se lo dici tu va bene allora allora ti porto in camera ok? così ti puoi riposare reggiti forte ed eccoci no 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 io mi assicurerò di stare sopra di te così ti coprirò con tutto il mio corpo mentre tu riposi io io guarderò e osserverò la zona non sia mai che qualche troia venga a cercarti io ti proteggerò sempre i miei artigli serviranno soltanto come scudo per te e come arma per uccidere i nemici ti proteggerò sempre tesoro ti amo tanto so